Da pochissimi minuti Apple ha rilasciato iOS 18, l'aggiornamento più atteso dell'anno, in grado di rendere iPhone ancora più intelligente, altamente intuitivo e sempre più personale. Prima di scoprire tutte le novità sono a chiedervi un piccolissimo favore, ovvero quello di lasciare un like al video effettuando l'iscrizione al mio canale. Si tratta di due gesti rapidi e che non vi costano assolutamente nulla, ma che saranno di grandissima importanza per la mia crescita qui su YouTube. Ora, breve sigla, poi andiamo a scoprire tutte le novità contenute in iOS 18. Voglio cominciare il video con una buona notizia, perché l'arrivo di iOS 18 non è giunta in solitaria. Sono infatti arrivate tutte le nuove versioni degli altri sistemi operativi Apple, sto parlando di iPadOS 18, WatchOS 11 e per la prima volta, contemporaneamente, anche di macOS Sequoia. Qui sul mio canale sappiate che sono già online altri tre video in cui vi faccio vedere tutte le novità contenute sistema operativo per sistema operativo. Fidatevi, ci sono centinaia di news e per comodità ritroverete i link qui sotto nella descrizione del video. Sappiate anche che a giorni arriverà un altro video tutto dedicato ad iOS 18 in cui vi farò vedere 20 funzionalità più nascoste davvero comodissime da conoscere e che cambieranno il vostro modo di utilizzare iPhone con iOS 18. E veniamo ora all'elenco degli iPhone supportati da iOS 18. La buonissima notizia è che sono supportati gli stessi iPhone di iOS 17, quindi si parte da iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max, ovviamente arrivando fino agli iPhone dei giorni nostri. Sappiate ovviamente che per certe funzionalità più avanzate sono necessari iPhone più recenti. Se provenite da iOS 17 con iOS 18 troverete anche l'aggiornamento al firmware del modem per tantissimi modelli di iPhone. Come sempre, questo aggiornamento migliora tutti gli aspetti legati alla connettività, che sia Wi-Fi, che sia Bluetooth, che sia 4G, LTE e anche 5G. Cominciamo finalmente con le novità parlandovi della personalizzazione di iOS 18 che quest'anno fa passi da gigante. Inizio mostrandovi nuovi sfondi di sistema. Eccone qui una versione, ma se entriamo nella modalità di modifica delle lock screen, facciamo un tap sul più e scendete un pochino fino alla collezione di iOS 18, qui troverete tutte le varianti, di cui una, quest'ultima, vedete, cambia in base all'orario del giorno, all'intensità della luce, un po' come avviene in macOS da tempo, ma se faccio a nulla vi faccio vedere le altre quattro varianti, ovvero gialla, viola, azzurro e rosa. Ma sicuramente la novità più croccante presente in iOS 18 è finalmente la possibilità di disporre le icone dove e come vogliamo. Vi faccio vedere due esempi di due mie schermate home. Qui ho creato praticamente una croce con le iconcine delle app e qui ne ho posizionate semplicemente una sulla sinistra e una sulla destra. La modalità di modifica è sempre la stessa, mi basta prenderla e tenere premuto, cominciare a muoverla e poi la potrò mettere un po' dove voglio. Guardate come in questo esempio io le metto tutte e due allineate a destra. Ma questa era solo una delle possibilità di personalizzazione perché troveremo ancora di più. Andiamo sull'iPhone, sulla schermata home principale, entro nella modalità di modifica della schermata home, faccio un tap su modifica e vedete che c'è una nuova voce che si chiama personalizza e a questo punto cosa potrò fare? Potrò impostare una colorazione delle mie icone in modalità chiaro. Resteranno esattamente come erano su iOS 17, nella modalità scura avete visto come tutte le icone si sono oscurite. Fatta eccezione vedete per Instagram ma lì sarà lo sviluppatore a dover rilasciare un aggiornamento alla sua icona dell'app, arriveranno sicuramente tutte nel giro di pochissimi giorni. Potrò scegliere anche la variante automatica che cambierà ovviamente quando l'iPhone si troverà nella modalità chiara o scura. Seguirà esattamente lo stesso funzionamento ma potrò anche andare a dargli una tinta delle icone come desidero io. Quando lo toccherete la prima volta lui andrà a scegliere il colore dominante nello sfondo e vedete che si è già impostato su un rosetto ma in qualsiasi momento con questo selettore potrò andare a cambiare proprio il colore e andare anche a cambiargli l'intensità. Vedete che è diventato un pochino sul viola diciamo che le voglio più azzurrine. Vedete come sia le icone ma anche i widget sono diventati tutti a tema. Ma continuiamo andando a vedere le altre possibilità di personalizzazione. Ora io lo riporto in automatico quindi seguirà quello che è l'orario posso anche con quel pulsantino là in alto lo vedete fatto a sole scegliere di dare un'intensità più scura a qualsiasi tipo di sfondo e questo si sposerà sicuramente meglio con la modalità delle icone scure e quindi anche in questo caso davvero ben fatto da Apple lo riporto in modalità chiara lo riporto in modalità automatica per farvi vedere un'altra opzione che è quella di far diventare le icone più grandi. Avete visto come le icone si sono ingrandite è sparita anche la voce del nome dell'app e sicuramente è un nuovo modo di vedere le schermate home magari poi sotto nei commenti ditemi se preferite la classica visualizzazione con nome o questa con le icone più grandi. L'arrivo dei nuovi sistemi operativi Apple coincide anche con la fine dell'estate un momento decisivo in cui va preso molto sul serio l'argomento della vostra sicurezza informatica. Sono perciò molto contento di parlarvi di NordVPN e del suo nuovo piano di abbonamento all inclusive. E sto parlando di NordVPN Ultimate. Sono ben cinque gli strumenti che raggruppa. Uno NordVPN il servizio di criptografia che protegge le vostre connessioni dandovi la possibilità di navigare in sicurezza da casa in viaggio e sotto reti wifi pubbliche. Due Threat Protection Pro che vi salva da siti falsi e pericolosi e dai malware nei file che potreste scaricare. Tre NordPass un password manager criptato che potrete utilizzare e sincronizzare su qualsiasi dispositivo anche non Apple come Windows o Android. Quattro NordLocker uno spazio di archiviazione cloud criptografato end to end da ben un terabyte che funziona da ogni dispositivo. E cinque il vantaggio aggiuntivo che è incluso nel pacchetto Ultimate che fa la differenza ovvero il benefit assicurazione cyber in grado di coprire fino a 5.000 euro in caso di truffa informatica o se avete acquistato qualcosa da siti che si sono rivelati falsi o fraudolenti in un periodo di 12 mesi. Queste cinque caratteristiche rendono NordVPN Ultimate uno strumento indispensabile e sarete felici di sapere che se vi abbonate ad un piano biennale dal mio link diretto che state vedendo otterrete un prezzo super vantaggioso più 4 mesi extra inclusi da ben 10 dispositivi contemporaneamente. Il link lo ritrovate qui sotto nel primo commento e nella descrizione del video. Mi raccomando pensate alla vostra sicurezza. Grazie a NordVPN per aver sponsorizzato il mio canale. Se pensavate che per la personalizzazione era tutto vi sbagliate perché potremo finalmente andare anche a modificare i due pulsanti che si trovano nelle lock screen che sono da sempre quelli della fotocamera e della torcia. Vado quindi nella modifica di uno sfondo vado a fare un tap su personalizza e scelgo schermata di blocco e vedete che ora i due comandi hanno un piccolo meno che mi permette di rimuoverlo e andando a fare un tap sul più potrò scegliere fra una lunghissima lista di controlli di tutti i tipi. Vedete c'è casa, calcolatrice, sveglia, se scendiamo un pochino troveremo l'orologio, remote, lo schermo e la luminosità, i suoni, il traduci, le utility. Insomma guardate ci sono anche comodissimi dei comandi per l'accessibilità e quindi li potremo andare a personalizzare, proviamo a mettere accesso assistito, è comparso quando andò a fare un tap su fine, lo ritroverò direttamente lì nella lock screen e un'altra cosa che ci tengo a dirvi molto importante è che tutte quelle che sono queste modifiche che abbiamo appena fatto sia la schermata home come colori, come dimensioni delle icone ma anche della lock screen seguiranno ogni lock screen ovvero se passo a un'altra lock screen, prendiamo da esempio questa nel colore giallo, vedete che è tornata la torcia, è tornata la fotocamera ed è tornata la disposizione delle app quindi tutte le impostazioni di personalizzazione seguiranno lock screen per lock screen. Ma con iOS 18 la personalizzazione arriva finalmente anche nel centro di controllo, qua vedete che ho già personalizzato la schermata principale, sì ho detto quella principale perché il centro di controllo diventa multipagina, quindi vedete che ad esempio qui ho un grandissimo player della musica, qua più in basso ho la connettività, potremo creare anche altre pagine, una tutta dedicata per la casa e modificarle quando vorremo, ma torniamo a quella principale perché ci sono dei dettagli prima di farvi vedere la personalizzazione che desidero farvi vedere e il primo è in alto nell'angolo a destra dove c'è il pulsantino di accensione e spegnimento, se faremo una pressione prolungata potremo spegnere l'iPhone semplicemente con uno swipe. Ma veniamo alla personalizzazione vera e propria del centro di controllo, come entrare nella modalità di modifica? Ci sono due modi, il primo è fare una pressione prolungata in un punto vuoto dello schermo, altrimenti più comoda nell'angolo in alta sinistra dove c'è un più, io provo proprio da lì e da questo momento cosa potremo fare? Vedete che qua in basso ci aggiunge un controllo e qui entreremo in una galleria di controlli veramente pazzesca, lunghissima, con tantissimi comandi, funzioni, possibilità di personalizzazione che vanno dai suoni al traduci, a tantissime utility, al wallet, a Apple Watch, a tutti quelli che sono i comodissimi comandi di accessibilità. Qua ci basterà selezionarne uno, ad esempio prendo il cronometro e lo posiziono automaticamente in basso, se lo vorrò eliminare, vedete che c'è in meno, lo tocco e sparisce dal centro di controllo. Un'altra cosa che potremmo fare oltre che disporre le icone come vogliamo sarà quella che certi di questi controlli possiamo farli diventare più grandi e quindi più facili da vedere, più facili da toccare. Prendo da esempio la torcia, vedete che nell'angolino in basso a destra c'è una curvetta, lo prendo, lo trascino e guardate ho portato la torcia a una dimensione più elevata, la stessa cosa la posso fare ad esempio con l'app Traduci che mi dà anche più informazioni perché mi dice già la lingua inglese. Come avete visto ci troviamo finalmente un centro di controllo altamente personalizzabile, ancora più utile, con più pagine e la buona notizia è anche che tutti gli sviluppatori di app potranno da adesso in avanti creare dei comandi da inserire nel centro di controllo che diventerà sempre più indispensabile. Con iOS 18 arriva anche una funzionalità che stiamo richiedendo da tantissimo tempo ad Apple ovvero la possibilità di proteggere attraverso il Face ID una qualsiasi app. Ma questa non è l'unica possibilità perché oltre che proteggerla col Face ID potremo anche decidere di nasconderla completamente da iPhone, vi faccio vedere come funziona, scelgo un app, nel mio caso prenderò 3 ads come esempio, ci faccio una pressione prolungata e guardate in alto mi dice richiedi Face ID, lo vado a toccare e mi dà chiaramente una pagina di benvenuto che mi dice l'app richiederà Face ID o il codice per aprirla e mostrare i contenuti, io gli vado a dare la conferma richiedi Face ID, mi faccio ovviamente riconoscere e da questo momento in avanti tutte le volte che la toccherò e non mi riconoscerà, mi allontano per farvi vedere, vedete che compare la voce per aprire 3 ads richiesto il Face ID, se dopo un po' non trova nessuno ci chiederà ovviamente il codice del nostro iPhone, l'altra cosa che vi accennavo che è davvero anche questa molto comoda è la possibilità aggiuntiva anche di nasconderla, per prima cosa quindi gli vado a dare la modifica perché è necessario farla su quelle app che abbiamo già impostato il Face ID, quindi gli dico non richiedere Face ID, mi faccio riconoscere, ora l'app si aprirà normalmente e rifaccio la procedura di prima solo che ci sarà una modifica, faccio la pressione prolungata, gli vado a dare ancora una volta richiedi Face ID e vedete che la seconda voce mi dice anche nascondi e richiedi Face ID, se lo tocco mi faccio riconoscere, mi viene una schermata di benvenuto che mi spiega quello che succederà ovvero che l'aspetto dell'app sarà oscurata, che non arriverà nessun avviso, notifico, chiamata di quell'app, gli do la conferma, gli dico nascondi app e avete visto che è scomparsa dalla schermata home, la cosa intelligentissima è che scomparirà anche dalle impostazioni andando in una categoria tutta nuova, quindi sarà difficile trovarla anche nelle impostazioni, ma dove finisce quest'app? Mi devo muovere fino alla libreria delle app, scendere fino in fondo e qui ci sarà una nuova categoria che si chiama nascoste, che se tocco senza Face ID ovviamente non mi fa vedere, vedete, non ha riconosciuto il volto, riprovo con il Face ID facendomi riconoscere e compare l'app con anche le sue notifiche, posso chiaramente da qui andarla ad aprire, ma ancora una volta mi richiederà il Face ID, quindi come avete visto gli do a nulla, gli do a nulla, diventerà un modo davvero molto più sicuro di gestire tutte le nostre app. La novità che vi mostro ora è un'aggiunta dell'ultimo minuto perché non era mai stata presente nelle prime otto versioni beta di iOS 18 ed è arrivata con la versione finale. Sto parlando dell'app fotocamera perché se la vado a richiamare, vedete ovviamente lo schermo nero, ma perché l'iPhone è appoggiato e mi muovo e nella modalità di registrazione video e faccio partire la registrazione di un video, guardate la novità qui nell'angolo in bassa sinistra, ovvero la possibilità di mettere in pausa la registrazione e di poterla ricominciare quando voglio, sempre con quel pulsante. Questa in effetti era una cosa che in tanti di voi richiedevano da tantissimo tempo, è bello vedere come Apple ci ha ascoltato e la portata su iPhone. Ma nell'app fotocamera c'è anche un'altra novità davvero molto comoda che segue un pochino quello che è stato il lancio dei nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max che hanno uno slow motion fino a 120 frame per secondo. La novità però riguarda anche dei modelli precedenti di iPhone. Quando infatti andremo a registrare a 60 fps, quindi 60 frame per secondo, provo a fare una registrazione anche se di pochi secondi per farvi vedere che potremo decidere di applicare anche in questo caso un piccolo slow motion. Vado a stopparla, vado ad aprire, è qui in basso a sinistra, questa registrazione che è nera, ma per farvi vedere che sento nella modalità di modifica, vedete che là in alto è comparso un nuovo pulsantino fatto un po' a contagiri che se tocco mi farà scegliere la possibilità di portare uno slow motion da il 100% che erano 60 fps a 50, ovvero 30 fps e potrò andare a scegliere io in che parte applicare, lo vedete qui dall'indicatore, quello slow motion, quindi altra cosa secondo me molto interessante per tutti i videomaker. Ora vi parlo delle impostazioni di iPhone che quest'anno non ho ricevuto un sostanziale restyling, ma prima guardate la schermata del mio iPhone, ho impostato le icone scure, guardate come diventa bello l'aspetto di iOS, ma torniamo alle impostazioni per farvi vedere come sono cambiati, innanzitutto avremo un maggiore ordine nelle sezioni, vedete che tutte le cose principali sono in alto, nella parte questo blocco ci sono tutte quelle che sono le funzionalità principali come generali, il centro di controllo, la ricerca, la fotocamera, andando un pochino più in sotto ci sono quelli che sono gli aspetti di notifica, suoni e di full immersion, le varie impostazioni di sicurezza e tutte le altre, quindi c'è un ordine decisamente migliorato per le impostazioni, ma se ci avete fatto caso ora le impostazioni sono anche più corte, vedete come sono andato in basso pochissimo perché tutte quelle che erano le app che continuavano qui sotto, ora sono in una sezione sestante, tutta per loro e sono anche ordinate in ordine alfabetico, potremmo muoverci facendo degli swipe o semplicemente vedete che c'è l'elenchino delle lettere, andandole a toccare, spostandoci in quelle che sono la lettera che ci interessa, la cosa da sapere che qua appunto ci finiranno tutte le impostazioni delle app, sia quelle di sviluppatori di terza parte ma anche quelle di Apple, vedete che mail è qui, messaggi è qui, memo vocali è qui, mappe è qui, insomma numbers e note, le ritroveremo tutte in questa nuova sezione facendo un grande ordine nella pagina principale delle impostazioni, ma nelle impostazioni ci sono altre piccole novità importanti, richiamo le impostazioni, vi faccio vedere la prima perché guardate sotto il mio nome, compare Apple Account che sostituirà da adesso in avanti in tutte le parti dei siti Apple e dei servizi Apple la voce storica Apple ID, un'altra novità riguarda il pannello di controllo di iCloud che potevamo raggiungere entrando nel nostro nome e resta così, ma che possiamo ora raggiungere anche andando in fondo alle impostazioni, c'è una nuova voce che si chiama iCloud e qui accederemo al nuovo pannellino di iCloud che è stato completamente ridisegnato e ora è molto più ordinato perché vedete abbiamo dei blocchi, il primo ci fa vedere lo spazio, il secondo i suggerimenti, in mezzo ci sono tutte quelle cose che stiamo sincronizzando su iCloud, c'è una sezione dedicata al backup, le funzioni aggiuntive di iCloud Plus se siete abbonati e in fondo la protezione, quindi novità anche per la gestione di iCloud. Con iOS 18 arriva un'app tutta nuova che si chiama Password, se ricordate le password erano incluse nelle impostazioni, vedete che se mi muovo non ci sono più e questo perché mi muovo in un'altra schermata home, c'è un'app da adesso in avanti che si chiama proprio Password, la vado ad aprire e mi faccio riconoscere ovviamente dal Face ID perché è necessario contenendo informazioni estremamente per noi importanti e qui avrete un riepilogo di quello che contiene, tutte le password, le passkey che vi consiglio di iniziare a utilizzare i codici di Authenticator presenti da tempo nelle password di Apple, comodissime le password del Wi-Fi, degli avvisi di sicurezza, le password eliminate e la modalità per creare dei nuovi gruppi condivisi o iniziare a condividere password e passkey con altre persone a noi vicine. Questa stessa app la ritroveremo anche in iPadOS 18 e in macOS Sequoia. sappiate che se sincronizzeranno su iCloud saranno presenti sempre su tutti i dispositivi. Novità importanti e direi finalmente arrivano anche nell'app telefono, andiamola a richiamare e muoviamoci nel tastierino che diventa più intelligente, più intelligente perché? Perché potremo iniziare a digitare un numero che magari conosciamo solo in parte o le prime lettere di un nome e ci verrà mostrato subito il contatto in alto, da lì ci basterà a toccarlo per effettuare la chiamata. Il concetto è quello del vecchissimo T9, ovvero le lettere che corrispondono ad un numero, quindi se volessi per esempio chiamare la Cate, cosa devo digitare? Devo digitare due volte il 2 e l'8 perché ci sono le lettere che compongono il nome Caterina. Quindi provo a fare due volte il 2 e poi l'8 e vedete che è comparso il nome con il numero che io ovviamente ho oscurato, lo toccherò e partirà la chiamata. Ma un'altra cosa molto comoda nell'app telefono è che ora nei recenti c'è una novità perché c'è il campo cerca che non c'è mai stato prima d'ora in iOS. Da qua cosa potrò fare? Potrò cercare nelle ultime chiamate, già se lo tocco mi fa vedere alcune delle ultime chiamate, comodissimo il pulsantino di chiamate immediato che mi basta toccare, ma potrò anche andare a digitare un nominativo di un altro nome, vedete non era nella lista delle chiamate recenti ma me l'ha trovato nei contatti e da qua sarà. Semplicissimo chiamare. Novità importantissime arrivano per l'app foto che in realtà è stata oggetto di tante modifiche fin dalla prima versione beta perché nelle primissime era stata abbastanza criticata dai noi utenti e in effetti era abbastanza caotica, ora Apple l'ha messa a punto e devo dire che è diventata davvero comoda e bella da vedere. La prima cosa che noterete quando aprite l'app è questa divisione fra due sezioni, la parte alta e la parte bassa. Nella parte alta facendo uno swipe verso il basso accederemo più o meno all'impostazione che avevamo prima, quindi le nostre foto, potremo scorrere vedete in alto e in basso, qui sotto ci sono gli indicatori di tutte le foto, i mesi, gli anni, la possibilità di regolare per filtri, ma le novità dove sono? La prima è nella foto del nostro profilo, del nostro Apple account che se tocchiamo ci farà vedere innanzitutto il numero delle foto e dei video, ci fa capire se abbiamo meno sincronizzato tutti i contenuti su iCloud, gli elementi condivisi e delle opzioni generali dell'app, sappiate che quando ad esempio le foto non sono sincronizzate su iCloud comparirà un pallino giallo e da qui potremo riprendere la sincronizzazione. L'altra novità riguarda la ricerca che è diventata più intelligente perché se la tocco potrò mettere un campo di ricerca magari come cane, mare, montagne, pizza, troverà come succedeva prima i contenuti con più precisione, ma mi proporrà già ad esempio dei filtri di ricerca. Se ad esempio vado a scegliere Caterina, guardate come in un tocco mi fa vedere tutte le foto in cui è presente la Cate e andando avanti nel tempo con i futuri rilasci di iOS diventerà sempre più intelligente e potremo usare anche delle frasi più articolate per personalizzare ancora di più la nostra ricerca. Ma veniamo ora alla novità che riguarda la parte inferiore perché vedete che scorrendo verso il basso compaiono vari blocchi come giorni recenti e questa è una novità perché ci farà vedere ogni singolo giorno in cui abbiamo scattato una foto e da qui potremo toccare e vedere solo le foto di quel giorno, gli album, le persone, gli animali, le raccolte in evidenza, dei ricordi già preimpostati da iOS, i viaggi, le foto in primo piano e tutti i vari tipi di file multimediali come i video, i selfie, i live photos eccetera eccetera ma anche altro dove sono incluse gli album nascosti, eliminati di recente, le illustrazioni, vedete che posso scorrere anche verso la sinistra. In fondo vedrò gli album condivisi e i suggerimenti degli sfondi molto comodo ma la cosa bellissima è che questa architettura di questa pagina potremo deciderla noi perché se scorrete fino in fondo vedete che c'è la voce, personalizza e riordina e da qua potremo decidere di muovere una sezione sopra l'altra a nostro gradimento ma potremo anche andare a dirgli che se per qualche motivo non vogliamo vedere gli album condivisi, non vogliamo vedere i ricordi e non vogliamo vedere le raccolte in evidenza andremo a togliere la selezione, faremo un tap sulla X e guardate come quelle sezioni che prima erano incluse ora sono sparita in qualsiasi momento potrò tornare e riattivarle come mi piace o decidere ancora di effettuare un riordino generale. Ultima novità che vi voglio far vedere riguarda la visualizzazione di un contenuto se ora tocchiamo ad esempio un video vedete che il video parte in automatico ma viene incluso all'interno dello schermo per vederlo a schermo pieno ci basta toccarlo e tornerà tutto come prima. Tante novità debuttano anche in Safari. La prima che vi voglio mostrare riguarda una rinnovata modalità di lettura ora mi trovo in un articolo di Apple e vedete che scorro su e giù riguardo i nuovi iphone 16 pro e 16 pro max e voglio andare nella modalità di lettura e leggerla decisamente meglio tocco questa nuova iconcina che vedete comparire nella barra dell'indirizzo la tocco e guardate mi compare già un riquadro dove mi chiede se voglio ascoltare la pagina quindi anche in questo caso è stata facilitata la possibilità di ascoltarla direttamente da Siri ma di fianco in azzurro c'è mostra modalità di lettura avete visto come è cresciuta la dimensione del carattere la dimensione delle immagini e potrò leggere in modo ottimizzato questa pagina se non dovesse bastare riva da toccare l'indicatore presente sulla barra del menu e potrò scegliere il colore di sfondo si poteva già fare prima color seppia un grigio scuro il nero potrò personalizzare il font di lettura di quell'articolo andare anche a ingrandire o rimpicciolire la dimensione del carattere quindi da questo punto di vista c'è una modalità lettura decisamente ottimizzata comodo anche il pulsantino in basso a sinistra che mi permette di ricercare una qualsiasi parola all'interno del testo ma in safari c'è anche un'altra funzione molto comoda che si chiama nascondi distrazioni mi ritrovo quindi in safari e mi muovo in una pagina web di mac rumors dove ho delle parti di questa pagina che non voglio assolutamente vedere fate attenzione che nascondi distrazioni non è un adblocker ma ci permette solo di nascondere particolari parti di una pagina web quindi cosa faccio se in questo caso in questa porzione della pagina volessi nascondere questo banner pubblicitario quello sotto cosa devo fare ritocco quel pulsantino nella barra dell'indirizzo e vedete che compare la voce nascondi distrazioni a questo punto compare questo piccolo indicatore in basso nello schermo vado a toccare semplicemente quelli che sono le parti che voglio nascondere ad esempio tocco il banner vedete che si circonda e mi chiede se lo voglio nascondere e avete visto che animazione bellissima e l'ha fatta scomparire voglio togliere anche questo lo tocco gli donna scondi e avete visto che pulizia ho fatto mi basterà toccare poi fine e non compariranno più neanche quando andrò a ricaricare la pagina e ora non vi parlo di una singola ma di ben due app davvero essenziali che uniscono le loro energie sto parlando dell'app calendario dell'app promemoria che finalmente iniziano a parlare fra di loro cosa vuol dire che finalmente vedremo i promemoria anche all'interno del calendario quindi vado a richiamare il calendario e qui vi faccio vedere una piccola novità che riguarda calendario di ios 18 siamo nella modalità di visualizzazione dell'anno quando vado a fare uno zoom su una porzione del calendario vedete che si amplia e mi dà maggiore dettaglio e lo posso fare ancora e vedrò ancora più dettagli ad esempio anche il titolo dell'impegno o proprio del promemoria perché se i colori definiscono il tipo di calendario che stiamo usando il blu e rosa almeno io li ho scelti così vedete che in grigio mi fa vedere proprio i promemoria ma come posso creare un promemoria e vederlo in calendario beh ci sono due modi il primo è direttamente dall'app calendario faccio un più e guardate in alto al posto che evento vado a creare un nuovo promemoria gli darò un titolo se avrò delle note le potrò selezionare lì sotto ma la cosa importante è quella di inserirci una data e se vogliamo anche un orario in questo modo ovviamente essendoci un tempo per fare quell'attività comparirà proprio in calendario vedete proprio qui che ad esempio nel giorno 17 avevo inserito un promemoria compare il promemoria posso anche andare a decidere e dirgli che l'ho eseguito e quindi lo vedrò anche lì posso anche crearlo ovviamente dall'app nativa promemoria andando a fare un tap sul più come succedeva prima metterò il titolo e quando toccherò la i mi basterà mettere la data e se voglio anche l'ora e la rivedrò comodamente nell'app calendario novità degne di nota arrivano anche nell'app messaggi lo vado ad aprire mi ritrovo già in una conversazione per farvi vedere dei bellissimi effetti di testo che possiamo dare nell'invio dei nostri messaggi quindi mi trovo qui ho già scritto effetti di testo e mi vado semplicemente a selezionare la porzione di testo che voglio modificare vedete che come la selezionerete qua nell'angolino a destra sopra la tastiera compare questa se la tocco cosa potrò fare da qui potrò innanzitutto scegliere se dargli il grassetto il corsivo il sottolineato o anche il barrato quindi potrò decisamente dare più importanza o meno una parola o una parte di una frase in secondo luogo guardate qui sotto ci sono ben otto effetti davvero bellissimi e che renderanno i nostri messaggi ancora più animati provo a scegliere ad esempio esplosione lo provo ad inviare mi farà rivedere questo bellissimo effetto l'ultima cosa che riguarda l'app messaggi è davvero secondo me molto interessante perché da adesso in avanti messaggi e supporterà lo standard rcs ovvero uno standard che ci permetterà di mandare messaggi più ricchi magari anche con foto video audio anche a coloro che non hanno un iphone quindi senza più utilizzare il vecchio standard sms l'rcs ci porterà sicuramente dei vantaggi incredibili per messaggiare ad esempio con chi dispone di uno smartphone android in cui questo standard è presente già da tempo nel momento in cui sto registrando non mi è stato possibile attivarlo credo che sia una cosa che dipenda dai vari operatori quindi sicuramente con il rilascio di ios 18 arriveranno in brevissimo tempo novità importanti arrivano anche nell'app fitness che sarà personalizzabile potremmo modificare l'ordine potremmo modificare i blocchi ma di questo argomento vi rimando al video in cui vi faccio vedere tutte le novità di watch os 11 perché questa app funziona decisamente meglio se abbinata un apple watch quindi ricordatevi che qui sul mio canale c'è già il video ma per comodità lo ritrovate poi sotto anche nella descrizione del video alcune novità molto carine fanno il loro debutto anche nell'app calcolatrice ricordandovi che finalmente quest'anno calcolatrice è arrivata su ipad os 18 per la prima volta quindi farò vedere più cose sicuramente in quel video ricordandovi che il video è già presente qui sul mio canale ma che novità ci sono nell'app calcolatrice per iphone la prima sarà comodissima vedete le tre linee te le ho toccate ci farà vedere la cronologia dei calcoli che abbiamo fatto sia dei calcoli che abbiamo fatto recentemente sia come nel mio caso calcoli fatti addirittura a giugno da qui li potremo recuperare senza doverli rifare da capo davvero molto comoda la seconda novità è questo pulsantino in basso a sinistra toccandolo mi farà scegliere il tipo di calcolatrice fra basilare scientifica dove ci sono molte più funzioni molte più variabili ma anche la possibilità di entrare nelle note matematiche ma di questo ve ne parlo fra pochissimo nella sezione dedicata a note torno in quella basilare per farvi vedere l'altra novità ovvero il pulsante converti come toccheremo questo pulsante iphone si trasformerà decisamente in un convertitore qua vedete che ci sono già dei valori come la valuta quindi euro e dollari mi basta inserire 100 e mi convertirà da 100 euro a 100 dollari sappiate che toccando l'indicatore di fianco potrete scegliere tra altre valute ma anche tra tante altre forme di misurazione come la lunghezza la potenza la pressione la velocità insomma qui vi dovrete sbizzarrire per convertire qualsiasi cosa arrivo così all'app note che quest'anno viene arricchita di tantissime funzionalità per prima cosa vado ad aprire l'app note e qui vedete che c'è una nota matematica l'ho chiamata io così e ve ne ho parlato solo qualche istante fa io l'ho già preparata per farvi vedere al meglio come funziona sappiate che potete inserire calcoli semplici ma anche calcoli decisamente più complessi guardate là in alto c'è una moltiplicazione quello che posso fare da adesso in avanti andare di fianco al secondo numero inserire l'uguale dare invio e mi darà automaticamente il risultato lo posso fare anche nella voce sotto che è un pochino più complessa gli vado ancora una volta a dare l'uguale mi dà il risultato e il gioco è bello che fatto quindi potremo sostanzialmente fare calcoli matematici all'interno delle note ma un'altra cosa che potremmo fare secondo me comodissima vedete che se scendo un po ho già fatto un elenco con dei costi luci microfono scrivania pannelli fotocamera dovrò semplicemente ridigitare le voci che compongono quell'elenco solamente i nomi andare in fondo mettere anche in questo caso l'uguale lui capirà che provengono da quell'elenco e mi farà automaticamente il calcolo matematico davvero davvero comodissimo sappiate che le note matematiche funzionano ancora in modo più potente su ipad os 18 perché lì potremo utilizzare anche l'apple pencil con effetti davvero wow quindi vi faccio ancora l'invito non perdetevi il video dedicato ad ipad os 18 continuando a parlare delle note su ios vi faccio vedere come è possibile da adesso in avanti personalizzare lo stile delle nostre note con tipologie di caratteri come il grassetto al corsivo e nuovi modi di rientranze del testo utili per chi fa codice per chi fa testi lunghissimi e soprattutto la possibilità di evidenziare una nota quindi per farvi vedere qui ci sono già quattro colori io prendo una porzione di un testo che voglio evidenziare la seleziono tocco le due a e qui vedete che c'è la possibilità di evidenziarla con la biro lo vado evidenziare mentre qua se tocco posso scegliere il colore se ricordate l'anno scorso con l'arrivo di mac os sonoma è arrivata anche la modalità gioco almeno sui mac bene quest'anno arriva la stessa cosa con ios 18 quindi quando avvieremo un gioco si attiverà questa modalità che garantirà prestazioni migliori a quel gioco andando ad abbassare quelle che sono le operazioni in background e quindi dando tutta la potenza di iphone per i giochi è stata anche ulteriormente migliorata la velocità e la lag quindi calata tantissimo che ci sarà fra joystick o dispositivi esterni per giocare sempre al meglio ma con l'arrivo di ios 18 troviamo importanti novità anche per le airpods o meglio per tutti i nuovi modelli di airpods di quarta generazione presentati da apple ieri durante l'evento ma anche per le airpods pro di seconda generazione parlo della possibilità di effettuare delle gesture con la testa come il si o il no e quindi interagire direttamente con siri senza dover parlare senza dover toccare dei tasti ma anche importanti funzionalità per la salute che ci aiuteranno a monitorare la salute del nostro udito quindi in tal senso tante cose ve ne parlerò in un video dedicato l'ultima parte del video come da questa tradizione la voglio dedicare all'argomento autonomia prestazioni e stabilità riguardo all'autonomia sono molto felice perché a partire dalla beta 6 che è arrivata più o meno un mese e mezzo fa ho visto un incremento alla durata della batteria del mio 15 pro max e non dico solo rispetto alle prime versioni beta ma anche rispetto alle ultime versioni di ios 17 nell'ordine circa di un 10 per cento quindi molto bene questo ragionamento vale ovviamente per il 15 pro max quindi magari ditemi voi come installerete ios 18 come sta andando sul vostro modello di iphone riguardo alle prestazioni che dire ios è velocissimo questo è vero un modello molto recente ma non ho visto mai lag non ho mai visto rallentamenti anche la tastiera che causava qualche problemino in ios 17 qui funziona molto bene riguardo alla stabilità devo dire che ios 18 è arrivato al lancio a questa versione davvero molto stabile non ci sono particolari sbavature qualche volta ho notato che quando impostiamo le icone nella modalità automatica ovvero che passano dalla modalità chiara alla modalità scura da solo funzionalmente all'orario qualcuna resta scura qualcuna resta chiara ma è un baguettino da poco che sono certo apple risolverà molto presto ora che vi ho detto tutto quello che mi interessa di più sapere è da voi e cosa ne pensate del mio video cosa ne pensate di ios 18 insomma ditemi tutto quello che pensate i numerosissimi qui sotto nei commenti direi che anche per oggi e per questo lunghissimo video dedicato ad ios 18 è davvero tutto mi raccomando a giorni arriverà un secondo video dedicato ad ios 18 con 20 funzionalità più nascoste che dovrete assolutamente conoscere noi ci vediamo presto prestissimo qui sul canale con tantissimi nuovi video un grande saluto da francesco ciao ciao